Un botte risposta duro accompagna l'annuncio, informale, che la presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi farà tappa nelle prossime ore a Taiwan. Una visita che fa parte del tour asiatico di Pelosi e che si trasforma in uno strappo diplomatico tra Pechino e Washington. La Cina, scrive il Wall Street Journal, ha messo in guardia sulle possibili conseguenze. La presidente è attesa a Taipei martedì sera. Pechino ha rimarcato che l'isola rappresenta una parte inalienabile del territorio cinese. Vorremmo ancora una volta avvertire gli Stati Uniti che siamo pienamente preparati e in attesa. L'esercito popolare di liberazione non starà a guardare, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri Cinese. Gli esperti riconoscono che questa visita ha una valenza simbolica importante. I cinesi hanno lanciato avvertimenti piuttosto espliciti in privato. Mi aspetto che facciano qualcosa di inedito. Ricordiamo che nel 1996 i cinesi hanno sparato missili intorno a Taiwan, cosa molto pericolosa, commenta la direttrice del programma Asia del German Marshall Fund. Questa volta credo che faranno qualcosa di ancora più provocatorio, forse penetrando nello spazio aereo territoriale di Taiwan che si trova entro le 12 miglia nautiche dall'isola, una cosa che non è mai stata fatta in passato. La settimana scorsa Taiwan ha avviato diverse esercitazioni militari simulando in particolare attacchi da parte della Cina. Nancy Pelosi è il più alto rappresentante eletto degli Stati Uniti a visitare Taiwan in oltre 25 anni.